bene buongiorno a tutti benvenuti a questa nuova webcast nk è dedicata a un argomento piuttosto interessante nato qualche anno fa che si è diffuso piano piano a macchia d'olio che è il V-Ray for Revit quindi un motore di calcolo di rendering appositamente sviluppato per altre piattaforme storicamente accoppiato sempre al 3D Studio Max infatti l'accoppiata V-Ray 3D Studio Max in questi ultimi 20 anni è stata un'accoppiata piuttosto vincente e che negli ultimi anni si è affacciato anche al mondo Revit quindi al mondo BIM direi che i partecipanti sono aumentati sono presso a poco entrati tutti per cui possiamo iniziare la presentazione vera e propria bene mi presento io sono l'ingegnere Andrea Capraro application engineering per quanto riguarda NKE mi occupo del mondo Autodesk in particolar modo di Revit e presenterò almeno inizialmente sia l'azienda NKE che l'architetto Paolo Formaglini che si occuperà della vera e propria esposizione di questo ottimo motore di rendering bene vi ruberò solamente 5 minuti per quanto riguarda la presentazione aziendale aiutiamo i nostri clienti quindi come NKE a migliorare continuamente le loro prestazioni attraverso soluzioni tecnologiche all'avanguardia e anche attraverso servizi di alto valore e collaborazione questo perché? Perché NKE è platinum partner di Autodesk per quanto riguarda la rivendita del software l'assistenza, l'installazione, l'attivazione e ovviamente tutta la parte di learning quindi di training, di corsi per quanto riguarda l'utilizzo del software ma siamo anche gold partner per quanto riguarda l'hardware HP quindi se avete bisogno di workstation in grado di far girare al meglio il vostro software nel caso di oggi per esempio Revit e Vray bene HP ha dei prodotti appositamente calibrati per questo scopo ma siamo anche rivenditori per quanto riguarda l'hardware di stampa che va dalle piccole stampanti alle stampanti in grandi formato come i plotter ma anche alle ultimissime stampanti 3D sempre di marca HP bene, cosa ci distingue anche? abbiamo un personale piuttosto nutrito e altamente formato e professionale più di 100 persone tra tecnici altamente qualificati anche commerciali, tutta la parte di gestione formativa eccetera eccetera abbiamo anche diverse filiali in Italia per poter coprire tutto il territorio italiano e poter appunto raggiungere al meglio i nostri clienti abbiamo anche 5 sedi in Spagna per quanto riguarda sempre l'utilizzo del software formazione eccetera eccetera più di 11.000 clienti per diversi settori oggi ci concentriamo sul mondo delle costruzioni ma in realtà noi copriamo anche i settori per esempio meccanici quindi l'MFG meccanica intendo tutta la parte di progettazione di automobili piuttosto che di catene produttive eccetera eccetera il mondo AC è un acronimo che sta per il mondo delle costruzioni quindi dell'edilizia il mondo GIS invece racchiude tutto quel mondo della progettazione territoriale infrastrutturale mentre l'ME che sta per media entertainment è tutto il mondo che va a collegare la parte di visualizing del progetto per esempio il V-Ray per il rendering oppure le animazioni siamo anche gestori di più di 300 progetti PDM questo è un ambiente più che altro per il mondo meccanico quindi siccome oggi ci concentriamo sul mondo AC quindi le costruzioni non sto a descrivervi troppo in profondità che cos'è il PDM però sono tutti ambiti della progettazione meccanica mentre per quanto riguarda la progettazione BIM ne abbiamo più di 150 perché abbiamo diversi clienti che operano in tutto il mondo con un fatturato di tutto rispetto questo è un fatturato del 2018 in realtà la slide mi è stata appena inviata anche aggiornata al 2019 ecco questo è tutto il settore tutti gli uffici che coprono il territorio italiano compresi anche quelli del territorio spagnolo io in particolare vi parlo della sede di Prato l'architetto Formaglini vi parla da poco distante da Firenze e questo è graficamente la rappresentazione di quei quattro settori di cui vi parlavo prima per esempio l'automobile fa parte della progettazione meccanica con tutta la filiera che ne fa parte i grattacieli sono il simbolo della massima espressione dell'edilizia della tecnologia applicata all'edilizia oggi mentre i canali navigabili rappresentano un esempio di progettazione infrastrutturale mentre la scena di un film può rappresentare perfettamente tutta la parte di rappresentazione di effetti speciali, rendering tutto ciò che è artificiale sia in immagini statiche sia in animazione offriamo ovviamente dei servizi di alto livello che riguardano l'help desk quindi aiuto all'attivazione del software all'installazione, all'uso del software in generale online, on site e anche il setup del software perché ci sono dei software che devono essere customizzati per il cliente non nascono tutti uguali per tutti devono essere un attimo personalizzati ovviamente di questi tempi l'online ha preso il sopravvento rispetto all'on site quindi abbiamo tutti i corsi online tutte le riunioni online quindi lo smart working ha preso il sopravvento la parte di training invece riguarda la parte di formazione per quanto riguarda l'uso del software anche l'uso dell'hardware perché no quindi abbiamo sezioni di training customizzate per il cliente quindi personalizzate online e anche queste hanno preso parecchio piede ultimamente oppure di startup nei progetti perché ci sono dei clienti che hanno bisogno di partire con dei progetti BIM e non sanno da dove iniziare bene, noi li aiutiamo proprio in questo project management qui abbiamo anche la possibilità quindi il know-how per poter gestire progetti PDM e PLM questo è sempre l'ambito meccanico quindi non mi sto a dilungare piuttosto che progetti BIM di cui vi parlavo poco fa oppure sviluppo di applicazioni applicazioni stand alone piuttosto che applicazioni che girano all'interno del software Autodesk oppure l'implementazione di strutture hardware di infrastrutture hardware a proposito di training abbiamo un bellissimo progetto in atto da diversi anni che è il BIM for Work è una sorta di percorso formativo che aiuta proprio i nostri clienti o gli studi o il singolo professionista ad approcciare proprio nella nuova progettazione il nuovo sistema BIM che è un metodo di lavoro a tutti gli effetti scusate sono avanti che praticamente riprende dalla A alla Z quindi dall'inizio alla fine tutto un progetto un vero progetto non un esercizio di stile ma un vero e proprio progetto in formato BIM quindi si toccheranno diversi punti diverse tematiche e anche diversi software di sicuro all'interno ci casca sempre Revit perché Revit è il collettore di tutta la filiera edilizia del sistema BIM bene questi sono altri corsi in partenza corsi rigorosamente online per via della situazione che stiamo vivendo per esempio abbiamo un corso online per quanto riguarda il Dynamo un corso base su Dynamo non so quanti lo conoscete ma Dynamo è un software di Autodesk che gira solo su alcuni prodotti in particolare Revit Civil 3D Civil 3D ovviamente è basato su AutoCAD quindi se vi state domandando se gira anche su AutoCAD la risposta è ancora no gira solo su Civil 3D sono due software appunto per il mondo BIM e Dynamo non fa altro che migliorare la progettazione e la gestione del dato che c'è all'interno degli elementi grafici di questi progetti è un corso molto molto interessante che consiglio a chiunque sappia già utilizzare Revit o che sta iniziando ad utilizzare Revit e vuole migliorare le potenziali quindi ottimizzare le proprie potenzialità poi abbiamo anche un corso online per quanto riguarda il VURAI for Revit quindi la webcast di oggi non è altro che un'introduzione a questo nuovo software ma anche un'introduzione a questo corso che partirà proprio il 21 aprile quindi la settimana prossima per questo si occuperà quindi vi illustrerà meglio tutti i dettagli l'architetto Formaglini tra pochi minuti quasi terminato portate pazienza e infine il corso online quindi un corso completo su Revit con preparazioni CMQ è un corso piuttosto lunghiato di 40 ore ma ne vale la pena perché riprende tutti i punti dell'utilizzo di Revit nella progettazione BIM e poi alla fine c'è la preparazione all'esame di certificazioni CMQ che è molto importante in effetti NKE è un ente certificatore per quanto riguarda l'ICMQ noi appunto facciamo sia corsi preparatori che appunto esami di certificazione per le figure che vanno per la maggiore adesso proprio per la questione della nuova normativa per intenderci quindi BIM Specialist BIM Coordinator BIM Manager e BIM Data Manager quindi se siete interessati ad acquisire queste specializzazioni queste certificazioni bene potete rivolgervi a noi per quanto riguarda le informazioni le curiosità ma soprattutto per appunto iscrivervi ai nostri corsi formativi o semplicemente per fare l'esame se ritenete di essere già pronti bene questo è il nostro sito sul quale potete per esempio trovare la sezione vlog dove abbiamo diciamo messo anche le vecchie webcast se siete interessati a vedere come funziona Navisworks come funziona l'interazione tra i software Autodesk software Adobe insomma qui trovate tutto lo storico delle nostre webcast tra le quali anche quella che riguarda la certificazione degli operatori BIM quindi ICMQ per intenderci vi lascio questa slide un qualche secondo per poter prendere qualche appunto con i nostri riferimenti quindi abbiamo il nostro sito nke360.com per quanto riguarda il mondo generale di NKE nel quale potete appunto esplorare anche il nostro settore dei corsi online trovate tutto lì dentro nel menu del nostro sito BIM for Work e Learn for Work per quanto riguarda il percorso formativo appunto per chi vuole iniziare i progetti BIM o comunque farlo anche fare dei corsi online oppure potete scriverci alla nostra email info.nke360.com se avete ulteriori domande che magari sorgeranno dopo questa presentazione poi alla fine quando tutto sarà concluso dedicheremo dieci minuti un quarto d'ora quello che è per le domande finali bene lascio la parola all'architetto Formalini un attimo solo che faccio il passaggio della staffetta ok bene Paolo Paolo mi senti? sì vi sento ti sento direi che possiamo cominciare innanzitutto do il buongiorno a tutti e prima di tutto ringrazio l'ingegnere Andrea Capraro per la presentazione di NKE e per tutti i servizi la presentazione di tutti i servizi che NKE stessa offre io sono l'architetto Paolo Formalini mi occupo di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale e nello specifico sono anche certificato Adobe quindi per quanto riguarda tutto il mondo della rappresentazione sia che esca dal mondo del disegno sia per quanto riguarda il mondo fotografico partecipo anch'io all'interno di NKE al fine di fornire una preparazione che possa essere la più completa possibile quindi io direi che possiamo cominciare e vedere da prima come andremo a strutturare il nostro il nostro corso quindi oggi faremo una breve presentazione per quanto riguarda l'integrazione di Vray quindi questo software di render all'interno di Revit e poi il corso sarà sviluppato in 12 ore con una frequenza di due volte a settimana e quindi è opportuno dire che con partenza dal 21 di aprile con tre settimane sarete in grado di avere una formazione completa per quanto riguarda proprio la capacità di rappresentazione dei vostri progetti sviluppati con Revit e quindi di essere in grado di rappresentarne con immagini efficaci il vostro progetto bene cominciamo subito a chiederci che cosa andremo a imparare assieme e questo è un aspetto molto importante cioè andremo a vedere all'interno del corso quali sono le differenze e le peculiarità del confronto tra Revit e Vray andremo a specificare e a spiegare per bene cosa vuol dire il rendering workflow cioè andremo a spiegare qual è il corretto flusso di lavoro nelle fasi di rendering e andremo a vedere come impostare le camere le viste di sezione all'interno di Revit come creare delle composizioni fotografiche con il nostro software di disegno nello specifico appunto Revit parleremo dei parametri della luce quindi tutti gli aspetti inerenti la global illumination l'ambient conclusion e anche i modi per cercare di avere dei render con tempi molto più veloci rispetto magari a dei settaggi sbagliati che a volte si possono utilizzare ovviamente parleremo della gestione della luce solare e di tutto l'ambiente all'interno del nostro mondo di rendere e quindi l'environment parleremo di come poter sfruttare sia le luci artificiali standard e anche ovviamente le luci IES per avere una risposta esatta come se fosse nel mondo reale all'interno dei nostri render parleremo di materiali base ed avanzati e di come anche avere la possibilità di aggiungere degli effetti fotorealistici quali il bloom che sono i bagliori creati dalla luce attraverso le lenti della macchina fotografica realtà atmosferiche come la nebbia ad esempio e la profondità di campo e quindi per cercare di concentrare l'attenzione delle nostre immagini verso punti specifici dell'immagine stessa infine un aspetto fondamentale andremo a strutturare i render elements e quindi una sorta di strati che il nostro Vray è in grado di restituirci per poi andarle a ricomporre o con Adobe Photoshop o con After Effects infine un aspetto fondamentale è che alla fine del corso noi andremo a fare assieme un'esercitazione finale e quindi non solo sarà un elenco di nozioni anche se partecipativo perché comunque potremo tra di noi comunicare eccetera ma andremo materialmente a mettere le mani in pasta questo perché nei nostri corsi non vogliamo mai lasciare nulla al caso ma soprattutto vogliamo fare in modo che le persone finiscano questo corso e abbiano tra le mani la potenzialità di gestire questo nuovo prodotto nuovo anche perché è da poco uscita anche una nuova versione e quindi io direi di abbandonare subito le slide per poterci subito buttare all'interno del nostro software e così potervi farvi vedere alcune caratteristiche appunto di Vray innanzitutto anche qui partiamo con una domanda importante perché non dobbiamo semplicemente lo ripeto ancora una volta fare un elenco di cose noi qui abbiamo un progetto di Vray già caricato e la prima domanda che ci dobbiamo chiedere è perché dovremmo usare Vray for Revit e quindi adesso all'interno di questa presentazione andremo proprio a rispondere a vedere quali sono tutte le caratteristiche al fine di rispondere a questa domanda ecco prima di tutto la prima risposta che si può che si può dare è proprio questa perché Vray è un motore di render integrato all'interno di Revit stesso se noi andiamo a vedere infatti nella multibarra superiore dove sono presenti tutti i i pulsanti e tutte le modalità di disegno e di modifica del nostro disegno abbiamo appunto anche una barra con appunto una linguetta con la scritta Vray se l'apriamo abbiamo una barra che apparentemente è solo limitata dal punto di vista dei pulsanti da utilizzare ma invece ci fornisce tantissime opzioni qui in primis nella current view abbiamo la possibilità di selezionare qual è la vista che vogliamo come render qui abbiamo le impostazioni del render per quanto riguarda quali tipi di render vogliamo utilizzare se render interattivo render finale eccetera le andremo a vedere e scoprire assieme durante il corso infine abbiamo la possibilità di scegliere qual è la qualità che vogliamo raggiungere per quanto riguarda il nostro render abbiamo la dimensione attenzione a non confondersi con la parola risoluzione ma resolution in inglese significa la dimensione in pixel della nostra immagine la possibilità di gestire le luci attraverso l'accensione o lo spegnimento delle luci artificiali ed ovviamente la possibilità di settare le luci solari e di conseguenza anche di poter settare altri aspetti per quanto riguarda le luci globali come appunto la dome light infine abbiamo due pulsanti che ci danno principali perché alla fine andremo sempre a cliccare sopra questi pulsanti avremo la possibilità di gestire i materiali e tutti gli aspetti per quanto riguarda l'immagine quindi come poterla gestire e settare alcune impostazioni principali infine qui come potete vedere anche dal simbolino stesso cioè della macchina fotografica abbiamo la possibilità di gestire appunto le possibilità di scatto della nostra macchina fotografica che appunto è una macchina fotografica fisica cioè ci dà tutte le caratteristiche per poter diciamo così simulare uno scatto reale come se il nostro progetto fosse effettivamente già costruito e noi fossimo semplicemente dei fotografi che abbiamo la possibilità di scattare alcune immagini direttamente a progetto già costruito infine abbiamo le impostazioni i settings e direi che possiamo proprio partire subito da qui per cominciare a vedere ed esplorare assieme quali possono essere le caratteristiche principali se io apro questo menu vedete che ho tutta un'altra serie di impostazioni e di cui ad esempio la prima linguetta è proprio renderer cioè le impostazioni principali di tutta la fase del render tra cui la global illumination alcuni settaggi per quanto riguarda l'interactive render che vedremo fra un po' ma la cosa che mi interessa di più è proprio farvi vedere ora che visto che dobbiamo rispondere sempre alla domanda del perché usiamo Vray per Revit o perché conviene utilizzare Vray per Revit è che Vray ha come motore interno la possibilità di sfruttare le potenze del processore quindi della CPU oppure della GPU cioè della scheda grafica perché questo se ad esempio io clicco sulla GPU e apro questo menu a tendina io qui potrei avere una lista con tutte le schede grafiche installate io ora non ho schede grafiche installate perché sono semplicemente su un portatile ma se fossi sul computer dell'ufficio qui avrei alcune schede grafiche installate quindi avrei la possibilità di scegliere quale scheda grafica voglio utilizzare perché questo perché la scheda grafica ha una velocità di renderizzazione notevolmente più alta rispetto alla CPU e che cosa significa questo significa che possiamo abbattere in maniera considerevole i nostri tempi di render che per chi magari è già nell'ambiente sa benissimo che i tempi di render sono un problema piuttosto annoso all'interno di questa fase quando si crea un render di grandi dimensioni e di alta qualità possono volere anche un certo numero di ore in funzione delle specifiche potenze della macchina che stiamo utilizzando quindi questo è uno degli aspetti principali la possibilità di settare quale motore vogliamo utilizzare per l'elaborazione del render quindi se quello a processore direttamente del nostro computer oppure quello della scheda grafica magari anche in combinazione perché qui avremo alcune possibilità qualora avessimo delle schede grafiche installate di avere sia la CPU che la GPU anche in combinata bene e quindi uno dei maggiori aspetti all'interno di questo software e quindi di Vray è proprio il fatto di un'assoluta integrazione totale io la definirei proprio con Revit stesso e quindi non c'è più bisogno di uscire dal nostro software e importare il nostro disegno all'interno di un altro motore di render oppure di un altro software come ad esempio 3D Studio Max eccetera ma noi possiamo tranquillamente ed è questo uno degli aspetti principali lavorare all'interno del nostro amato software e poi dopo semplicemente andare a renderizzare ecco un aspetto principale non è solo quello che finisco il mio lavoro e poi vado a renderizzare ma io voglio avere anche la possibilità di controllare ciò che sto facendo cioè se ad esempio io vado ad aprire una vista 3D come potrebbe essere questa una delle peculiarità principali di V-Ray è quella di fornirmi un render interattivo cosa vuol dire vuol dire che V-Ray comincia a calcolare un render e qualunque modifica io poi dopo vado a fare all'interno del mio progetto questa sarà visualizzata in questa finestra andiamolo subito a vedere e quindi io vado a cliccare direttamente qui sopra nella seconda icona dove c'è il simbolo della teiera ormai classico per quanto riguarda i pulsanti di render con una manina che indica appunto l'interattività questa possibilità è estremamente importante perché adesso come vedete appena mi mi carica il render eccolo qua vedete che Revit ha cominciato scusatemi V-Ray ha cominciato a produrre questo render e vedete che mi segnala anche questa sorta di di barra che continua ad andare che cosa vuol dire vuol dire che a mano a mano che il render viene lasciato inalterato si pulisce sempre di più cioè va a eliminare tutte queste zone esattamente qui dove proprio sono andato ora sul col mouse va a pulire sempre di più il render ma l'aspetto assolutamente importante è quello che adesso io qualunque modifica vada a fare come ad esempio potessi selezionare un oggetto all'interno della mia scena lo posso cancellare e anche nella finestra del V-Ray Interactive Rendering mi viene appunto visualizzata questa modifica questo è un aspetto importantissimo ma un altro aspetto importantissimo è quello che possiamo notare fin da ora appena acceso il V-Ray Interactive Render cioè che i materiali settati all'interno del nostro progetto di Revit vengono in maniera perfetta renderizzati anche all'interno di V-Ray questo è un aspetto fondamentale perché ciò sta a significare che non dobbiamo settare dei materiali quindi magari appartenenti a famiglie e oggetti all'interno del nostro progetto Revit e doverli per forza rifare una volta che andiamo a affrontare la fase di render ma possiamo tranquillamente utilizzare gli stessi settati all'interno del nostro software di disegno e quindi appunto Revit questo è un aspetto fondamentale perché ci dà la possibilità di velocizzare tantissimo il nostro lavoro e solo qualora noi dopo avessimo bisogno di utilizzare dei materiali più avanzati o con delle caratteristiche particolari allora potremmo utilizzare i materiali all'interno del mondo di Vray quindi vedete che in prima istanza ciò che io ho fatto esattamente all'interno di Revit mi viene esattamente copiato con tutte le sue impostazioni all'interno del mondo di Vray stesso e quindi questa integrazione tra i due mondi fra i due software viene valorizzata ancora di più qualora io vado a fare delle modifiche ad esempio cominciamo con alcune modifiche così anche solo per farvi vedere diciamo così molto semplici come ad esempio io potrei avere la necessità di cambiare la luce del sole è vero che all'interno di Revit io posso accendere le ombre e poter già vedere in anteprima la posizione del sole e dove la luce va a colpire all'interno della mia scena di progetto ma il fatto di avere il Vray Interactive Render attivo spengo un attimo le ombre per maggiore leggerezza mi fa rendere meglio conto quali sono le modifiche che io posso fare cioè se ad esempio io vado ho la necessità di provare quali sono altre direzioni del sole io non devo far altro che rivolgermi a Revit stesso utilizzare appunto le impostazioni del sole e ad esempio da 135 gradi dell'azimuth potrei scegliere facciamo una prova di mettere ad esempio 270 guardate adesso appena io ho cliccato qui su vedete che direttamente il Vray Interactive render mi cambia e quindi mi si aggiorna con le nuove modifiche questo è ad esempio con il sole a 270 270 gradi di direzione come ad esempio facciamo un'ulteriore prova vado a impostare 90 gradi ridò di nuovo applica ed ecco qua che appena si aggiorna vedete ha creato la barra qui di avanzamento qui nel basso e vedete che adesso sono in grado di visualizzare una luce a 90 gradi questo è un aspetto importantissimo perché mi permette di scegliere direttamente con i materiali attivi quale potrebbe essere la luce migliore anche perché e questo è un aspetto più generale ma è un aspetto fondamentale noi stiamo andando a creare di fatto proprio una rappresentazione quindi dovremo cercare tutte quelle caratteristiche fotografiche al fine di comunicare con la nostra immagine e la luce del sole visto che in questo specifico caso non facciamo uno studio della direzione solare ci serve appunto per comunicare certi tipi di aspetti con i quali abbiamo voluto creare il nostro progetto bene continuiamo sempre all'interno di questa strada cioè quindi dell'interazione fra i due software non solo abbiamo la possibilità di vedere di variare la luce del sole ma ad esempio un altro esempio molto semplice se io vado ad aprire la finestra di render del di avvit stesso posso anche andare a cambiare ad esempio lo sfondo e questo tipo di sfondo quando io ad esempio vado a inserirlo vedete ecco qua allora quando io poi dopo lo vado a dare quando andrò a fare il mio render finale io dopo avrò la possibilità di avere il mio render direttamente con questo cielo e quindi poter scegliere degli esempi senza nuvole nuvole rade nuvole sparse o nuvolose eccetera direttamente all'interno del mio render ora non me lo fa vedere semplicemente perché sono nell'interactive qualora poi dopo vada a dare invece il rendere definitivo dopo me lo inserirà perché lo prende direttamente dal dallo sfondo di di revit stesso bene non solo alcuni aspetti per quanto riguarda la gestione della luce o dell'ambiente stesso ma anche ad esempio la gestione della camera stessa ad esempio se io volessi e vado ad aprirmi ad esempio una vista dall'alto eccola qua me la sposto qui sulla sinistra ecco vado ad accendere la camera in maniera tale che sia visibile vedete che dalla vista dall'alto io ho la possibilità di vedere com'è la posizione dov'è la posizione della mia camera e anche cosa sto inquadrando è facile pensare che se adesso io vado a muovere ad esempio alcuni aspetti come il punto di vista vedete che dopo qualche attimo di aggiornamento il software Vray in questo caso mi andrà ad aggiornare la mia immagine adesso appena mi si aggiorna eccolo qua c'è voluto qualche secondo e vedete che adesso appunto io sono andato a variare il mio punto di vista vedete che anche all'interno del Vray Interactive Render mi è cambiata come ovviamente mi è cambiata all'interno della mia vista 3D però in questo caso io sono in grado di meglio comprendere in virtù del fatto che ho i materiali che ho la luce eccetera queste diverse variazioni cioè ad esempio se io sposto anche il punto di ripresa cioè il punto dove io vado a scattare nello stesso caso esattamente come prima non devo fare altro che aspettare qualche secondo e vedere il risultato all'interno della mia finestra appunto del Vray Interactive Render che adesso arriva eccola qua e quindi io in questo caso mi sono avvicinato molto al mio progetto e ho definito un nuovo punto di vista e una nuova posizione della mia camera adesso vedete che il render appunto è ancora diciamo così granulato sporco meglio dire e a mano a mano che io lascio andare avanti senza toccare senza fare altre modifiche si pulisce sempre di più in maniera tale che l'immagine sia facilmente riconoscibile in tutti i suoi aspetti non solo io posso andare ovviamente a modificare i parametri delle posizioni delle camere ma se ritorno ad esempio nella mia vista 3D posso scegliere anche ulteriori aspetti come ad esempio il fatto di poter andare a cambiare la mia lunghezza focale cioè il fatto di poter scegliere delle lenti come se fosse esattamente un fotografo all'interno della mia scena completamente diverse e il bello è che io lo posso fare direttamente con le opzioni di Revit stesso quindi non devo far altro che attivare lo strumento per la navigazione cliccare sul col destro e scegliere la voce aumenta riduci lunghezza focale Revit non mi dà la possibilità direttamente di scrivere un determinato valore ma mi dà anch'esso una possibilità interattiva cioè se io avanzo e quindi aumento la mia lunghezza focale vado ad utilizzare un teleobiettivo e quindi il risultato sarà un'apparente vicinanza al mio oggetto ma allo stesso tempo io mi posso allontanare non fisicamente ma posso utilizzare una lunghezza focale più corta e di conseguenza riuscire ad comprendere all'interno della mia scena molti più oggetti molte più scena vedete questo è come se io esattamente stessi utilizzando un grandangolare quindi una lente grandangolare in maniera tale da inglobare molti più zona del mio progetto e anche ad avere o perlomeno giocare con alcune caratteristiche che sono fondamentali delle lenti grandangolari il fatto di avere come peculiarità delle linee pendenti e di conseguenza di far sembrare un'area molto più grande di quella che effettivamente è questo è proprio sono diciamo così delle modalità di comunicazione che visto che stiamo andando a creare dei render quindi a mettere delle pelli sul nostro oggetto 3D sono di fondamentale importanza perché come dicevo prima ci aiutano a raccontare il nostro progetto bene non solo la possibilità di interazione definirei pressoché totale per quanto riguarda il mondo di congiunzione fra Revit e Vray stesso ma abbiamo anche altre peculiarità e caratteristiche che il nostro motore di render ci può offrire un aspetto fondamentale che io ritengo fondamentale è la capacità di Vray di offrirci il pannello storia che cosa vuol dire guardate se io vado qui all'interno di questa finestra che appunto si chiama Vray Frame Buffer non è nient'altro che la finestra nel quale Vray ci offre la sua immagine dove viene elaborata durante la fase di render ho alcuni aspetti fondamentali tra cui appunto questo pulsantino in basso con il simbolo dell'H H sta per storia e quindi se io lo vado ad aprire ho una funzione fondamentale che posso accendere spegnere attraverso anche i settaggi come ad esempio i settaggi appunto qui della storia posso definire una propria directory quindi una cartella dove andare a salvare questi elementi e posso scegliere anche alcune opzioni come il fatto di poter salvare in maniera automatica che cosa vuol dire salvare in maniera automatica vuol dire semplicemente che per ogni lavoro che io vada a fare e quindi anche ogni prova che io vada a fare all'interno del motore di rendering Vray questa prova viene automaticamente salvata all'interno della storia di Vray di questo progetto ed è importantissimo perché questa storia noi la possiamo riaprire anche quando salviamo il nostro progetto generale chiudiamo il nostro software chiudiamo il nostro computer e il giorno dopo quando riapriamo il nostro progetto l'abbiamo di nuovo a nostra disposizione guardate io qui avevo già salvato facendo alcune prove all'interno di questo progetto alcune realtà quindi semplicemente ho attivato la storia e ogni volta che andavo a fare delle prove di render Vray me le salvava ad esempio vedete io qui ho il render originale diciamo così quindi senza assolutamente modifiche e poi ad esempio ho fatto una prova cambiando variando la luce solare quindi come primo ho fatto 270 e anche 90 non solo la possibilità di averli sempre qui a disposizione e sapete benissimo se magari avete affrontato anche solo in parte il mondo del render sapete benissimo quanto sia importante avere elementi di confronto perché se no cosa ci ritroviamo ci ritroviamo sempre a salvare le nostre immagini a riempirci le cartelle di immagini chiamate molto spesso diciamocelo un po' così fra di noi tanto la realtà è questa prova 1 prova 2 test 1 test 2 eccetera senza poi di fatto ricordarsi quali impostazioni sono state utilizzate e quindi di conseguenza avere la possibilità della storia è fondamentale non solo per un confronto diretto ma per tutte le altre informazioni che questa storia si porta dietro a cominciare lo potete leggere qui sotto dalle tempistiche del render stesso vedete io qui ho proprio le caratteristiche del render e quindi anche sapere se le modifiche che ad esempio io ho fatto nei vari settaggi possano portare a qualche risultato in termini di velocità oppure no e quindi ho subito un elemento di confronto in più aspetto assolutamente fondamentale da non trascurare io posso cliccando lì col destro vedete editare i commenti che cosa sono se ci clicco vedete che in questo caso io ho aggiunto i gradi con i quali ho variato la luce solare perché perché così ovviamente a colpo d'occhio vedete ad esempio 270 gradi luce solare qui ho messo solo 90 potrei aggiungere ad esempio anche in questo caso luce solare magari in italiano corretto ecco solare save and close vedete che rimane qui all'interno di questa finestrella questo è importantissimo perché appunto così io ho un confronto diretto e non solo guardate io posso applicare a un'immagine ad esempio questa la caratteristica di essere immagine A e se ad esempio scelgo quest'altra gli dico di essere la B questo è comodissimo perché subito Vray ci dà questa barra verticale che è interattiva e quindi io posso muoverla a destra ho la mia realtà dell'immagine B quella che ho settato la si vede qui in basso a sinistra con questo color arancione quindi nella parte destra ho l'immagine B nella parte di sinistra invece ho l'immagine A molto comodo per vedere alcuni aspetti del render senza dover aprire e chiudere due immagini nello stesso tempo perché ad esempio mi darebbe la possibilità di potermi concentrare all'interno di questa zona qui del lato di questo edificio per vedere quali due quali posizione del sole mi garantisce ad esempio un miglior riflesso potrei scegliere la A così come potrei scegliere la B ok questo è un aspetto estremamente importante perché diciamo così ci permette di costruirci una storia delle nostre fasi di test del render per poi dopo andare a scegliere quali siano le impostazioni migliori in termini sia di qualità che di tempistica quindi qualora voi andiate ad accendere questa funzione storia cosa che io vi consiglio e cosa che utilizzeremo sempre durante il corso ci darà la possibilità di confrontare tutti le varie realtà e le possibilità del render stesso questa finestra addirittura la potete aprire e chiudere bene a questo punto andiamo avanti proseguiamo con alcuni aspetti e andiamo a vedere alcune caratteristiche ad esempio vi faccio subito un'anteprima delle possibilità che vengono offerte dall'asset editor e dall'appearance manager l'asset editor è il posto la realtà dove noi possiamo andare a cambiare i nostri materiali cioè dove ce li possiamo andare a creare e modificare apparentemente è una finestra molto piccola con pochi settaggi ma se ci fate caso sia a sinistra che a destra abbiamo due freccette perché se le clicchiamo vedete che questa zona si espande e ci dà due ulteriori finestre nelle quali rispettivamente a sinistra abbiamo una lista predefinita dei materiali da utilizzare direttamente creata da V-Ray quindi come potete vedere abbiamo i mattoni abbiamo i metalli tipici delle macchine ceramica i concrete le luci emissive materiali da fabbrica quali tessuti eccetera e ce li vediamo tutti in sottoforma di anteprima e come potete anche notare le anteprime variano in funzione del tipo di materiale che ad esempio state utilizzando quindi non solo la classica chiamiamola così palletta di rappresentazione dei render ma se ad esempio voglio andare a modificare o usare un tessuto vorrei avere un anteprima in cui le caratteristiche del tessuto vengano risaltate in questo caso un anteprima in cui un tessuto viene appoggiato appunto sulla sfera stessa ma se ad esempio ritorniamo su i mattoni vedete che ad esempio il simbolo perlomeno l'anteprima è quella appunto di un muro attraverso questa lista io faccio semplicemente un trascinamento verso la finestra centrale e questa finestra centrale mi rappresenta tutti i materiali che sono utilizzati o che possono essere utilizzati all'interno del mio disegno come vedete una volta che io l'ho posizionata all'interno della mia colonna centrale sulla destra ho tutte le possibilità di modifica di questo materiale che indagheremo per bene e in maniera approfondita durante il corso perché come potete vedere le opzioni sono notevoli e tra le più disparate quindi di conseguenza possiamo anche settare se vogliamo i settaggi avanzati o se vogliamo i settaggi semplici in questo caso io avevo i settaggi semplici una volta che accendo questo pulsante degli avanzati vedete che si sono aperti appunto come la ruvidità altri pannelli e quindi ulteriori opzioni che io posso sfruttare come ad esempio aggiungere degli attributi o aggiungere dei livelli e quindi degli strati all'interno del materiale stesso al fine di variarne le sue caratteristiche iniziali ecco questo è un pannello che noi andremo ad esplorare per bene durante il corso ovviamente possiamo usare dei predefiniti così semplicemente vi faccio vedere che attraverso la pressione di questo pulsante qui create asset noi possiamo andare a creare invece dei nuovi materiali che poi possiamo personalizzare a nostro piacimento così come poter inserire appunto delle texture ora non perdiamoci più di tanto perché mi interessa farvi vedere anche l'appearance manager che è il posto invece dove una volta che abbiamo creato i nostri materiali non dobbiamo far altro che inserirli all'interno dei nostri materiali e quindi dei nostri oggetti all'interno di Revit vedete qui ho tutti i materiali che vengono utilizzati all'interno di questo progetto qui sulla destra mi ritrovo il simbolino di Vray che con una freccetta che mi apre un menu a tendina e mi fa vedere che tipo di materiali io posso andare a utilizzare che sono esattamente quelli impostati dall'asset editor ok e questo è veramente semplicissimo il modo con cui io vado a integrare questi due aspetti sempre per valorizzare la domanda che ci siamo posti all'inizio cioè perché io dovrei utilizzare Vray per Revit proprio anche in funzioni di semplicità e di integrazione con il mio disegno stesso ad esempio io vado adesso ad aprire un'altra vista e che appunto è quella l'override generiche che era simile a quella di prima ritorno sulla mia barra di Vray e gli dico che voglio usare questa vista e quindi qui nella current view nella vista corrente gli dico quale deve essere utilizzata per farvi vedere semplicemente un aspetto fondamentale o perlomeno molto utile all'interno di Vray stesso quello di poter utilizzare una sovrascrittura di tutti i materiali vedete qui ho la voce material override e quindi ho la possibilità di dare un unico materiale a tutti gli oggetti e tutti i componenti della mia scena quindi semplicemente se io ora andassi a scegliere qui nel materiale opachi perché vedete mi dà anche una doppia differenza fra quelli opachi oppure quelli trasparenti andassi ad esempio a scegliere legno chiaro oppure ad esempio adesso mettiamo generiche che è il il materiale base quindi non modificato assolutamente adesso come al solito vado ad accendere il mio render interactive e andiamo a vedere un attimo quello che succede questo aspetto è fondamentale perché mi può permettere di togliere l'attenzione dal punto di vista di tutti i materiali e concentrarmi esclusivamente sulle forme volumetriche del mio progetto quindi adesso appena parte il mio rendering interactive eccolo qua me lo sposto un po' sulla destra vedete che tutti gli oggetti opachi appunto quindi non gli oggetti però trasparenti hanno subito questa modifica cioè sono tutti diventati oggetto di materiale generico io potrei farlo addirittura anche per gli oggetti trasparenti così come per gli rpc e quindi tutti gli oggetti inseriti e in questo modo vedete che io ho una rappresentazione assolutamente volumetrica al fine di rendermi meglio conto quali possono essere la gestione della luce quale può essere l'impatto volumetrico di questo progetto o semplicemente per creare un render veloce volumetrico senza perdermi in tanti settaggi di materiale ma ad esempio lo si può sfruttare per alcune caratteristiche molto importanti che spesso in ambito architettonico vengono utilizzate ad esempio se io volessi creare una vista tipo plastico e quindi in questo caso mi sposto su un'altra vista e quindi una vista assonometrica anche in questo caso vado a cambiare da v-ray a dirgli che voglio renderizzare un'altra vista potrei andare a scegliere sempre di utilizzare un material override e ad esempio usufruire del materiale legno chiaro in per tutte le realtà andiamo di nuovo ad accendere il nostro render interactive per vedere un po' quali sono le conseguenze e vedere un po' cos'è successo quindi io mi aspetterò che tutto verrà ricoperto di un materiale che appunto in questo caso è legno chiaro per cercare di andare a simulare quello che potrebbe essere una vista come se fosse appunto un modello di studio all'interno del mio progetto che molto spesso anche rende bene l'idea ed eccolo va la nostra realtà però se io volessi aggiungere anche un maggior realismo beh guardate nulla di più facile perché a questo punto mi potrebbe bastare andare a cambiare il valore materiale di quelli trasparenti e quindi ad esempio io mi ero già salvato un materiale in policarbonato e vedete che adesso aggiungendo la trasparenza a mano a mano i materiali diventano l'oggetto insomma la rappresentazione diventa sempre più realistica dovete cominciare a pensare che se io avessi ora il tempo di poter andare a creare a strutturare meglio il mio progetto posso andarli anche a definire ad esempio altre essenze del legno stesso guardate facciamo una semplice rappresentazione perché io anche in maniera molto veloce appunto all'interno della storia mi ero già ricreato una figura del rendere qui veramente in 448 semplicemente andando a cambiare il materiale per le strade e semplicemente il materiale di queste finiture che vediamo qui di un legno diverso l'immagine assume già tutto un altro aspetto andando più su quella rappresentazione di immagine tipo plastico che appunto è molto efficace all'interno delle rappresentazioni architettoniche così ad esempio io posso avere sempre sfruttando la sovrascrittura di tutti i materiali appunto il material override posso andare a scegliere altri tipi di materiali e me ne posso creare uno vedete qui è nella lista il tune material che cos'è il tune material è la capacità di avere tutti i nostri oggetti trattati come se fossero direttamente da una penna o da una matita ora ve lo faccio vedere semplicemente per tempistiche direttamente anch'esso dalla storia che cos'è che ho fatto ho creato un materiale bianco il quale ho detto a Vurey che voglio che tutti i bordi del nostro oggetto 3D vengano ricalcati da delle linee nere e questa è una forma molto semplice di rappresentazione ma allo stesso tempo molto efficace perché ci consente innanzitutto di creare eventualmente delle sfumature che possono andare dal disegno normale fino a render completo ovviamente che dobbiamo fare con un programma di fotoritocco però in pochissimo tempo vedete che qui ad esempio questa immagine anche seppur piccola di dimensione in soli 3 minuti 4 minuti 3 minuti 50 in 4 minuti è stata creata ed ha un ottimo effetto senza avere essere diciamo così disturbati dalla tipologia dei materiali stessi bene io direi possiamo ancora proseguire e andiamo a vedere qui cancelliamo la sovrascrittura del global override ritorniamo un attimo e cambiamoci vista ecco qua ritorniamo in questa come al solito con Vray glielo devo andare a dire che ho voluto cambiare cambiare vista e adesso andiamo a vedere alcuni altri velocissimi aspetti ad esempio io non solo voglio avere la possibilità di settare la luce del sole ma ad esempio potrei avere la necessità di utilizzare altri aspetti come ad esempio le immagini HDRI che semplicemente non sono altro che delle immagini sferiche e quindi ci danno la possibilità di essere fisicamente all'interno di questa sfera e soprattutto poterne utilizzare la luce e quindi diventano effettivamente una simulazione della luce stessa se io vado in all'interno del pannello delle opzioni del sole vedete che la prima voce appunto è il Vray Sun il secondo è appunto il Dome Light se io lo apro mi si apre questa finestrella in cui mi chiede i valori di intensità mi chiede soprattutto se voglio aggiungere un'immagine HDR quando io vado ad accendere vedete semplicemente anche da alcune gratuite io ad esempio queste qui le ho scaricate direttamente gratuite e di conseguenza ne seleziono una e poi dopo anche in questo caso da qui da HDR Image Preview io posso vedere qual è il tipo di risultato sicuramente siamo in una realtà giornaliera e ad esempio sempre grazie al mio render interactive posso andare a vedere cosa succede intanto ovviamente essendo un'immagine sferica io posso scegliere la sua direzione quindi meglio dire il suo orientamento al fine di cambiare la posizione del sole attraverso il rotate H e ovviamente posso anche andare a scegliere qual è l'altezza relativa di questo di questa immagine HDR HDR ovviamente sta per High Dynamic Resolution quindi immagini con una gamma tonale estremamente alta e quindi in grado anche di replicare la luce stessa ecco guardate questo è il nostro risultato ma ad esempio se io andassi a modificare un po' ad esempio la rotazione portiamolo più o meno a 150 vediamo un po' che tipo di effetto vedete abbiamo con la luce ecco guardate non è affatto male con la luce che proviene qui dall'angolo superiore destro e ad esempio posso scegliere anche di abbassare un po' perché comincio a vedere vedete qui lo sfondo delle mie immagini HDR e quindi ad esempio potrei pensare di alzarlo un po' vediamo se 14 può bastare vediamo un po' ecco lo voglio far sparire adesso diciamo che 16 vediamo un po' sì direi che adesso appena lo crea eccolo qua direi che mi posso ritenere soddisfatto nel senso che guardate è anche venuto un bel effetto della luce solare ovviamente adesso l'immagine è fin troppo scura perché perché i settaggi della macchina fotografica attraverso i valori dell'esposizione sono un po' troppo alti cioè sto fotografando con del settaggi che diciamo così mi consentono un'immagine un po' troppo scura e allora anche in questo caso nulla di più facile clicco sulla mia macchina fotografica e semplicemente vado a cambiare i valori di esposizione quanto quanto basta nel senso che per prima cosa lo vedo attraverso il mio v-ray interactive render e quindi sono in grado di di vedere qual è il tipo di effetto che ad esempio me ne viene fuori con un 12 così magari ad esempio come un 11 e vedete che magari con 11 l'immagine comincia a essere forse un po' troppo chiara e quindi magari non è subito a primo acchito di che mi possa piacere ecco bene ad esempio possiamo sempre continuando nell'ambito delle luci eccetera ovviamente abbiamo tutta la possibilità di accendere anche le luci artificiali attraverso semplicemente la funzione di questo pulsante quando io le vado ad accendere le funzioni di luce sono esattamente quelle impostate all'interno di Revit e questo ci dà una comodità assoluta prima di tutto perché possono essere luci direttamente reali e quindi sono le luci I e S impostate direttamente come nella realtà e in più posso giocare con alcuni aspetti guardate un po' adesso vi faccio vedere semplicemente come esempi perché stiamo andando un po' lunghi come presentazione però guardate io innanzitutto ho creato con un'immagine una dom light notturna ho semplicemente acceso le artificial light quindi le luci artificiali e semplicemente ho abbassato il valore di esposizione della mia macchina fotografica cioè l'ho resa più sensibile alla luce tipico caso di un'immagine notturna quindi qui ci sono le luci direttamente di Revit e oltretutto l'effetto è veramente molto buono oltretutto però Vray mi dà un'ulteriore possibilità perché perché qui siamo comunque nell'ambito della rappresentazione e se io volessi perdonatemi il termine anche un po' falsare la situazione e quindi spingere un po' di più l'effetto delle delle luci allora ho necessità di un'impostazione che trovo nello specifico all'interno del menu sempre di Vray cioè nel Appearance Manager sempre all'interno del Global Override di creare una sovrascrittura anche delle luci artificiali e guardate che il risultato può essere ad esempio questo cioè queste sono le luci naturali di Revit cioè quelle reali con una spinta maggiore e quindi con un override di luci io posso ottenere questo risultato che è molto più affine semplicemente alla rappresentazione e meno ovviamente alla realtà beh poi oltretutto le caratteristiche di Vray che andremo ad esplorare per bene all'interno del corso ovviamente non finiscono qua ve le accenno semplicemente ma soprattutto una importantissima che è la capacità meglio dire la possibilità di utilizzare un rendere di minore qualità e di farci aiutare dalla funzione di riduzione rumore chiamata appunto denoiser cioè guardate se io ora vado su questa immagine e ad esempio vado su risultati di effetto e ad esempio qui la ingrandiamo adesso ingrandisco il pannello vedete questa è l'immagine originale vedete come è puntinata diciamo così come presenti ancora realtà di rumore mentre invece questa è con la riduzione di rumore direttamente attivata quindi render più veloci più efficaci e più puliti non solo ovviamente ma anche la possibilità di creare degli effetti di luce come vedete questi effetti di bagliore che mi ritrovo qui ad esempio replicati che sono molto importanti perché appunto vanno a ricreare una sorta di realtà come se la luce andasse a colpire direttamente la nostra lente infine ringrandiamo anche questo eccolo qua ad esempio un esempio finale anche qui vi faccio notare che i materiali non sono stati toccati sono esattamente quelli di Revit e quindi non è stata fatta alcuna modifica perché vi voglio far vedere questa immagine innanzitutto perché avevamo appena pochi secondi fa parlato dei bagliori e qui ce le ritroviamo proprio in maniera tale da farci comprendere e farci vedere come sia un'immagine sicuramente con effetti più fotorealistici ma soprattutto per l'ultima impostazione di V-Ray caratteristica di V-Ray che ci fa rispondere alla domanda iniziale perché utilizzare V-Ray perché V-Ray ci dà la possibilità di suddividere tutte le realtà presenti nel render sotto forma di strati e dove le andiamo a trovare all'interno di questo menu a tendina se vedete ci sono una serie di voci e questi sono i canali del render andiamoli un attimo velocemente a guardare questo è il canale RGB quindi quello dei colori questo è quello delle trasparenze quindi ciò che è nero è la trasparenza qualora volessimo andare a cambiare il nostro sfondo le luci così come la global illumination e quindi i rimbalzi le rifrazioni quindi gli elementi trasparenti le riflessioni e quindi tutti gli aspetti che sono riflessi e come ad esempio la mappa di profondità la Z-Dept che ci dà attraverso un canale di grigio la possibilità di far leggere ad altri software qual è la profondità reale cioè nelle Z di un'immagine appunto bidimensionale così appunto anche il canale del riduttore rumore perché è così importante avere questi canali beh perché e proprio al corso lo faremo anche in virtù dell'esercitazione finale che andremo ad affrontare assieme è importante perché io posso utilizzare programmi quali Photoshop o After Effects al fine di ricomporre tutti questi canali a quale scopo avere una maggiore d'utilità del mio render e ad esempio poter in pochi secondi sfruttare una luce solare così come una realtà invece fotografata di notte senza dover per forza rilanciare di nuovo il render e quindi creare delle tempistiche che sono molto più veloci c'è la possibilità di combinare e assieme i vari canali del render mi dà la possibilità di avere un utilizzo molto più artistico ed efficace del mio motore di render infine guardate ritorniamo solo un secondo sulla sulla presentazione e poi dopo concludo perché i canali di render sono proprio questi vi li ho messi qui tutti assieme in maniera tale da vederli nella loro completezza vi faccio semplicemente notare che questi color diciamo così un po' arlecchino invece sono fondamentali perché ci danno la possibilità di poter cliccare e selezionare all'interno di un programma di fotoritocco qualunque realtà o oggetto presente nella nostra scena quindi questo è il risultato che si può ottenere all'interno di Vray come vi ho già fatto vedere ecco detto questo abbiamo fatto una bella corsa assieme con la volontà comunque di spiegarvi perché può essere davvero conveniente e di sicuro risultato grafico utilizzare Vray spero di essere stato chiaro vi ringrazio innanzitutto della vostra disponibilità e del vostro tempo e quindi adesso spero che abbiate delle domande e siamo qua per rispondervi e vi aspetto qualora vogliate al corso che comincia proprio la prossima settimana per andare ad esplorare assieme tutti questi aspetti grazie ancora e buona giornata adesso possiamo rispondere alle domande grazie Paolo grazie per la tua bella webcast molto molto interessante ora ho visto diversi tipi di domande subito bisogna specificare che Vray è un modulo a parte di rendering quindi ce l'hanno chiesto diversi nostri clienti e i partecipanti è un prodotto a parte quindi alcuni non si trova direttamente nella toolbar di Revit ma va ovviamente acquistato a parte utilizzato a parte oppure c'è anche lì la versione trial comunque noi distribuiamo ovviamente sia Revit sia il Vray quindi chiedeteci informazioni sui prezzi e le modalità di attivazione del modulo di Vray se vuoi far scorrere le domande magari un po' più tecniche guardavo infatti appunto le domande le sto leggendo proprio proprio ora ecco allora innanzitutto i costi di Vray li potete andare a vedere appunto anche attraverso il sito e per quanto riguarda il corso si può usare la versione dimostrativa di Vray e quindi questo è un aspetto fondamentale non c'è subito la necessità di doverlo acquistare e avete tutto il tempo per poterlo sfruttare poi leggo render 4 e 18 minuti sì quello sono 41 e 18 minuti quelle tempistiche di render variano in funzione soprattutto della potenza di calcolo che potete utilizzare e quindi ci può essere molta molta differenza la comodità però di utilizzare il pannello storia come vi ho fatto vedere è proprio quello di poter confrontare le varie caratteristiche soprattutto cambia se usiamo la CPU o la GPU ma sono tutti aspetti che andremo a indagare all'interno del corso vedo un'altra domanda la differenza Vray e Lumion beh sono due differenze completamente sono due programmi di render completamente diversi e qui per ora sarebbe non tanto complicato rispondere ma sarebbe sicuramente lungo rispondere alla differenza fra Vray e Lumion quello che comunque è importante capire ora è l'assoluta e totale integrazione che Vray ha all'interno di Revit il plugin per Revit 2021 non so quando sarà disponibile ma vado così a sensazione penso che possa anche già anche la versione Next 2 di Vray possa supportarlo però non ci metto la mano sul fuoco Vray può fare anche delle animazioni questo sì per il corso si partirà realizzando un progetto di esempio e componendo tutti i materiali fino ad arrivare all'applicativo Vray esattamente cioè partiamo da vari esempi varie caratteristiche ma soprattutto alla fine del corso avremo ci manterremo il tempo per costruire assieme un progetto da zero diciamo così senza adentrarci più di tanto nel discorso di Revit perché non ne abbiamo il tempo materiale per poi dopo andare a settare tutti i singoli materiali ed avere un render finale che ad esempio potrete anche utilizzare come portfoglio sì hai dynamic range questo sì hai ragione quindi infatti immagini con gamma dinamica come poi ho ritradotto in in italiano immagini con alta gamma dinamica e quindi non resolution ma range esattamente grazie per la correzione dall'inglese quanto dura la versione trial penso che duri 30 giorni ma bisogna verificare esattamente sul sul sito nel caso è possibile averla un link per rivedere la presentazione ha avuto una riunione improvvisa questo magari assolutamente sì sarà messo a disposizione il link per poterlo rivedere a tutti i partecipanti a quelli che si sono iscritti e magari non hanno potuto partecipare oggi ci sono stati veramente tanti comunque vi manderemo il link e come al solito è presente nel nostro vlog come tutte le nostre webcast anche quelle vecchie potete rivederle sul nostro sito nella pagina del vlog del video e poi sarà postato anche penso su youtube quindi avete tutti i canali a disposizione per rivedere questa webcast intanto continuo ancora un po' con le domande che arrivano veramente in grande numero esatto allora si affronteremo discorsi sia di rendere esterni che di rendere interni quindi copriremo tutta la gamma per quanto riguarda le specifiche diciamo così le caratteristiche delle immagini che si possono creare con con vray rispondo a voce perché non avrei il tempo materiale di rispondere per scritto in quanto sono davvero tante le domande quindi sì con arredi luce eccetera per quanto riguarda la storia vedo questa domanda di Francesca se non sbaglio allora c'è la posizione che si possono salvare in maniera manuale così come direttamente in maniera automatica se non sbaglio infatti adesso io ritorno nel se vedete ancora il mio il mio schermo se ritorno vedete sulla mia finestra di render le ultime anzi le prime in realtà sono quelle che stavo creando mentre stavo facendo la spiegazione perché in maniera automatica sono state salvate il costo il corso verterà sull'integrazione di Revit e Vray o si parlerà dell'impostazione dei settaggi tipiche dei motori di render di Vray allora in realtà il corso verte sull'integrazione fra Vray e Revit ma tutti i settaggi che poi incontreremo con Vray quindi ad esempio il settaggio di un materiale le caratteristiche intrinseche di un materiale vanno bene per qualunque versione di Vray e per qualunque altro software di disegno utilizzate quindi vanno bene anche per Vray impiegato ad esempio all'interno di 3D Studio Max per lavorare su Vray abbiamo bisogno di processori potenti guardate non più di tanto ho fatto questa presentazione con un computer che non ha particolarmente potenza quindi si può fare tranquillamente ovvio che nel caso in cui dobbiamo produrre l'immagine definitiva avremo la necessità magari di lasciarlo lavorare diciamo così la notte perché ci vorrà un po' più di tempo però l'importante è poter settare la nostra immagine dal punto di vista compositivo mettere e settare per bene i nostri materiali così da avere l'immagine pronta poi qualora avessimo bisogno di altre realtà per completare il render in tempi minori o magari abbiamo un render veramente grande quindi con un numero di pixel veramente elevato allora ci possiamo fidare eventualmente anche ad altre soluzioni quali ad esempio il rendering cloud direttamente offerto dalla cioè offerta e a pagamento ma comunque disponibile presso la chaos group per quanto riguarda le cpu consigliate generalmente le invidia non ci sono delle schede grafiche ottimali quindi diventa un po' difficile diciamo così non diventa difficile scegliere qual è la scheda grafica ottimale però sicuramente una scheda che possa integrare il linguaggio grafico cuda e quindi un invidia sicuramente può aiutare tanto in termini di tempistiche sicuramente io quello che consiglio è un buon processore perché a volte e qui entriamo un po' nelle varie casistiche il render creato dalla scheda grafica si è più veloce però a mio parere perché l'ho utilizzato davvero tanto e quindi ho esperienza con questo software il livello qualitativo non è così eccezionale come per il caso fatto dalla cpu ma queste sono considerazioni che vedremo poi anche durante il corso Vray permette di fare realizzare foto inserimenti tipo 3d studio max ho capito la domanda no non direttamente li si può sfruttare attraverso la possibilità di utilizzare di uscire con i canali rendere e quindi di entrare all'interno di di photoshop la possibilità di settare una camera direttamente su un'immagine no questo per ora non è non è possibile non so spero di avere esaurito un po' tutte le domande guardavo un po' ritornavo un attimo su e per quanto riguarda è possibile salvare ed esportare direttamente le caratteristiche di tutto un render all'interno di Vray per essere ad esempio importato all'interno del di Vray per 3D Studio Max o altro quindi possiamo uscire direttamente con delle scene di Vray così come possiamo creare degli oggetti proxy sempre di Vray al fine di visualizzare meno poligoli nella nostra scena io direi che domande ce ne sono state a Iosa spero di aver risposto quasi a tutte per le altre ho visto che anche già sia Andrea Torre che Andrea Caprara hanno già risposto ad alcune domande e io direi che ci possiamo salutare per qualunque realtà avete già visto quali possono essere anzi la rimetto di nuovo gli indirizzi ai quali fare riferimento nello specifico trovate anche la mia mail qualora abbiate bisogno di ulteriori informazioni se no tutti i canali ufficiali di NKE e NKE360 e con questo io vi ringrazio davvero tanto dell'attenzione e della partecipazione perché siete stati davvero in tanti e ne approfitto anche per ringraziare NKE e per questa possibilità grazie grazie mille Paolo è stato molto chiaro una bella webcast molto molto interessante quindi vi aspettiamo sul corso per i prezzi iscriveteci pure alle nostre info di NKE360 punto com chiedete informazioni sia per quanto riguarda l'acquisto del prodotto V-Ray software V-Ray la plugin per Revit sia ovviamente per i prodotti Autodesk ma anche per acquisire poi il corso grazie ancora a tutti per l'attenzione vi auguro buona giornata e buon appetito e state collegati perché faremo prossimamente altre webcast interessanti quanto questa grazie ancora Paolo grazie ad Andrea grazie a voi e buona giornata a tutti e arrivederci grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti